La Masterclass è molto interessante perché ci fa vedere proprio concretamente quello che fa. Indicazioni su azioni concrete da porre in essere tutti i giorni. Mi ha introdotto a un mondo che comunque non conoscevo. La possibilità che c'è andato di fare anche delle domande. Ha chiarito anche alcune dubbi che avevamo. Anche per chi non è addetto ai lavori. Difficile ma interessante. Dettagliato, specifico, tecnico e ci sono molte informazioni utili. I social sono importanti per il marketing di un'azienda. Ti dà nuovi spunti, nuove tecniche per poter affrontare quello che è il mondo digitale attuale. Molto pratici, anche di facile comprensione. Sicuramente abbiamo parlato proprio di gestione dei social. Siamo andati proprio all'interno con gestione e inserzioni, con il business manager. È stato assolutamente illuminante, coinvolgente ed ispirazione. Siamo andati proprio all'interno con gestione, coinvolgente ed ispirazione, coinvolgente ed ispirazione. Siamo andati proprio all'interno con gestione.